I poliziotti in borghese del commissariato San Marco in servizio nei pressi del ponte di Rialto hanno udito le grida di aiuto di una donna che spintonava un ragazzo al chiaroscopo di allontanarlo da sé. Il soggetto, credendo di agire indisturbato in un luogo molto affollato e lontano dalla vista di uomini indivisa, stava tentando di borseggiare la donna, una turista cilena, infilando una mano nel suo zaino. Il malintenzionato però si è imbattuto in una pattuglia del commissariato San Marco, impiegata in abiti civili, in servizio antiborseggio, che, intuita la dinamica del fatto, si è diretta verso l'uomo che si stava già allontanando dalla donna con passo spedito, proprio in direzione dei poliziotti che lo hanno bloccato. La donna ha dichiarato poi di avere sorpreso il soggetto mentre frugava con la mano nel suo zaino, circostanza confermata anche da alcuni passanti. Il borseggiatore, un 35enne rumeno, è stato processato per direttissima per furto pluriaggravato, tentato ed è stato condannato a quattro mesi di reclusione e al pagamento di una multa da 120 euro con pena sospesa.